Andiamo a vedere quello che è accaduto, quindi 90 minuti con il commento teletronaco originale di Riccardo Gentile. Si è mossa la rete dietro. Attenzione! Colpo di testa qui che termina di pochissimo alto, era andato benissimo pazienza. Pronto Marek Amsic dalla bandierina, parte il suo cross, colpo di testa, Frey strepitoso sul tanque Denis. Ancora Denis tutto solo, cerca la torre per Amsic. Parte il cross di Comotto, Gilardino di testa, cerca l'angolo, pallone che esce. Maggio, possibilità per lui, attenzione, stava per caricare, invece prova il cross dentro, di testa la rete! Ancora Lavezzi torna a segnare, è il pocio Lavezzi, torna a segnare il San Paolo dopo più di un anno, Lavezzi! Zuniga, recupera un pallone importante, lì vicino Denis, Zuniga prova la percussione, Zuniga, Frey, dice di no, azione personale di Zuniga. Attenzione, è partito il Napoli, possibilità per il raddoppio, è uno contro uno, di fronte al portiere si divora! Il gol del 2 a 0, è il pocio Lavezzi, reclama il calcio di rigore. Lo prende, lo prende, lo prende, non prende il pallone Felipe. Babacar si rialza, serve Jovetic, attenzione, Jovetic confezione a un gran crozza! Gilardino, il pareggio, uno a uno! 15 minuti, pareggia Gilardino! Babacar per Jovetic, Jovetic per Alberto Gilardino, uno a uno! Lavezzi, vuole allargare, ci riesce, fermare Kamsic, che si feste su di lui. Dall'altra parte ancora Lavezzi, può calciare col destro, arriva stanchissimo! Kamsic, fuori per Zuniga, cross col destro, e ci arriva di pochissimo Lavezzi! Riccardo Montorivo, allarga, dalle parti di Gopi, il suo controllo, maggio di fronte a lui, trova il cross, Gopi dentro! Un po' di testa, ancora una volta, possibilità per la Fiorentina, Santana! Parte Santana, il suo cross, salta più in alto di tutti, e poi il gol di Gilardino, ancora lui! 2 a uno, attenzione, l'esultanza di Alberto Gilardino, reclamano i giocatori del Napoli, ma è tutto regolare! Scora Lavezzi, dentro, di testa, maggio! Tre, dice di no, grande intervento, con la mano di richiamo! Ancora Napoli, Cigarini, pallone che filtra, De Santis, attenzione, può raccogliere, in area di rigore, De Santis, Fiorentina che può ripartire, Babacar, la porta è vuota, Babacar, prova il calcio verso la porta, che è squarnita, ci arriva Jovetic, 3 a 1, si chiude qui!